Buonasera, ben trovati. Oggi ci occuperemo di salute, ci occuperemo di una patologia particolarmente fastidiosa, su cui forse sappiamo ancora poco. Stiamo parlando della psoriasi, una malattia della pelle. Con noi abbiamo il dottor Giovanni Bernia, buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Dottor Bernia è medico di famiglia, ha numerose specializzazioni, non è un dermatologo, ma ha una lunga esperienza in questo campo. Questo grazie appunto a numerosi studi fatti nel corso della sua carriera di medico, in campo scientifico, in campo tradizionale, ma anche naturale. Ho detto bene, la psoriasi è una malattia, dottor Bernia? È una malattia, però con questa distinzione rispetto al recente passato. Fino a 7, 8, 10 anni fa era considerata una dermatosi cronica recidivante. Oggi in tutto il mondo occidentale è considerata ufficialmente malattia cronica multisistemica infiammatoria. Multisistemica significa che ha numerosi cause e numerosi ambiti di problemi. Quindi non più una malattia dermatologica, anche se quello che chiunque può vedere di primo acchito è i problemi alla pelle, alla cute. Certo. Possiamo spiegare quali sono le cause che portano a questa patologia, a cominciare dalla causa più comune? Allora, la causa oggi più evidenziata è a livello intestinale. Cosa succede? Che nei malati psoriasici la parete dell'intestino, di tutto il tubo intestinale, va progressivamente con gli anni sempre più assottigliandosi e aumentando la sua porosità. Questo cosa significa? Significa che dall'interno dell'intestino trapassano facilmente sostanze di vari genere verso l'esterno e così al contrario, dall'esterno verso l'interno. Ora, finché si tratta di un passaggio attraverso la circolazione linfatica o ematica di sostanze tossiche verso l'interno dell'intestino, tutto bene, tutto ok, vengono eliminate naturalmente e basta e finito lì. Il problema è esattamente il contrario, l'opposto. Quando sostanze tossiche dall'interno dell'intestino passano verso l'esterno. Allora, dunque, questo passaggio è, ripeto, dovuto all'aumento di porosità e all'assottigliamento della parete. Quindi vi è una sostanziale riduzione delle barriere protettive. Delle barriere protettive, chiamiamola così, sì, certo. Queste sostanze passano verso l'esterno, il primo contatto l'hanno con la circolazione linfatica, da qui poi alla circolazione ematica, capillare, arteriovenosa. Poi non ce la fa più la circolazione ematica a gestire tutte queste tossine e allora entra in azione fegato e reni. Quando anche fegato e reni cominciano ad avere problemi a eliminare, a distruggere tutte queste sostanze, entra in in azione l'apparato cutaneo. L'apparato cutaneo attraverso tutta la circolazione linfatica, sebacea, produzione di ghiando di silvia e sebacea, con formazione, nel tentativo di eliminazione in superficie di queste sostanze, formazione delle lesioni tipiche della psoriasi. Quelle che noi fino a pochi anni fa pensavamo fosse l'unico problema o perlomeno il problema fondamentale. Mentre alla fine è il termine di tutto. Certo, questo è il meccanismo che poi porta a questa patologia che dicevamo all'inizio è molto fastidiosa perché è molto evidente, ma concorrono anche fattori ambientali a provocare questa malattia? Allora, fattori ambientali sono soprattutto fattori digestivi, alimentari o comunque sostanze introdotte dall'esterno, dall'esterno per via orale o per via nasale con il respiro. Le conseguenze… E' anche un'alterazione del sistema immunitario? Assolutamente. C'è questa alterazione. Non è ancora stato evidenziato bene l'antigene specifico, però è molto probabile che nei prossimi anni anche questo ambito verrà assolutamente chiarito. Quali altre cause possono concorrere all'insorgere di questa malattia? Per esempio, che correlazione vi è con l'alcol? Spesso si è sentito dire che l'alcol è un portatore di questo disturbo. Allora, qui dobbiamo distinguere quelli che sono i fattori alimentari, in medicina si dice eziologici, cioè causali e i fattori che provocano le riacutizzazioni. Ok. Allora, per quanto riguarda i fattori eziologici causali, abbiamo, ho detto prima, fondamentalmente è l'intestino. Per le concause abbiamo tutta una serie di fattori. Ad esempio, anche il tabacismo, lo stress, l'introduzione di molti tipi di farmaci, l'inquinamento aereo, stress con le conseguenze neuropsichiche. Quindi potrebbe essere anche, non lo so, uno stress comportamentale, semplicemente ambientale. Ambientale. Il tabacismo, l'alcolismo, eccetera. Però tutti questi fattori portano a una riacutizzazione del problema, una riaccensione. Per cui chi è affetto da questa patologia deve assolutamente evitare, per quanto possibile in assoluto, eliminare tutti questi fattori. Ecco qui, cioè, è ovvio che il tabacismo va eliminato, l'alcolismo pure, c'è tutta una serie, dal punto di vista alimentare, c'è tutta una serie di cibi che vanno eliminati in modo assoluto. Se uno legge questa lista, rimane impressionato. La prima reazione è, sì ma io qua muoio di fame, cosa mangio? Puoi mangiare moltissime altre cose a cui puoi appassionarti e ti danno assoluta soddisfazione. Ecco, prima però di introdurci in quelle che possono essere poi le cure per chi è affetto da queste patologie, vorrei capire ancora meglio se questa patologia ha un'insorgenza, per così dire, naturale potrebbe avere anche un'insorgenza, diciamo genetica, se è trasmissibile. Sì, è quello che accennavo prima, dal punto di vista immunitario potrebbe essere trasmissibile in questo senso. È familiare in circa un 30% dei casi, è presente nella stessa famiglia, più elementi. Quasi sempre, insomma, se insorge questa malattia qualcuno in famiglia la... È facile, non è sicuro, non è certo, però è molto facile che è presente. E si manifesta ad un'età particolare oppure... Può manifestarsi fin dall'infanzia, in tre, quattro, cinque anni di età, però a volte anche in età, magari dopo, cioè in occasione della pubertà o dell'inizio adolescenza, che si voglia, oppure dopo la menopausa nella donna. Quindi con un certo... una certa importanza del discorso ormonale. Altri fattori di rischio? No, niente di particolare. Potrebbe far insorgere altre malattie, potrebbe provocare altri disturbi? Potrebbe... sì, certo. Cioè, questo stato di stress, chiamiamolo così, in cui è immersa la persona psoriasica, ecco, ho detto persona psoriasica, un piccolo accenno al fatto che troppo spesso noi medici non affrontiamo il problema della persona psoriasica, lo affrontiamo esclusivamente dal punto di vista della malattia psoriasica. Potrebbe avere conseguenze diverse. Mentre la persona dovrebbe essere indagata a 360 gradi, e quindi anche all'interno della sua famiglia in cui vive. Questo perché, dottore? Per lo stress, soprattutto. La persona psoriasica tende, soprattutto giovane, soprattutto giovane, e in modo particolare nell'ambito femminile, tende sempre più a isolarsi e fa di tutto anche per cercare di non far capire a chi gli sta attorno che soffre di questo isolamento. Ma l'isolamento ce l'ha. La voglia di isolamento ce l'ha. Quindi è anche un forte impatto sociale. Assolutamente, nei rapporti interpersonali. Vengono alterati. Si sente una rabbia dentro. Una persona inferiore al resto del mondo che gli sta attorno. Quindi è molto facile l'entrata in una sindrome più che ansiosa e depressiva, soprattutto depressiva. Questo non certo solo per un fattore estetico. No, ma per tutte le conseguenze che poi porta. Cioè le difficoltà, i disturbi che ha nei contatti interpersonali. Quando viene colpito soprattutto, non che so, il palmo delle mani. Vai a convincerla che può stringere la mano senza nessun problema, che non è trasmissibile. Quali sono i sintomi più comuni? I sintomi cutanei più comuni sono placche, chiazze placche, soprattutto localizzate alla partenza del cuoio capelluto. Poi a livello dei gomiti, faccia esterna dei gomiti, non all'interno. A livello delle ginocchia, anche regione lombare e ai piedi, pianta di piedi. Poi ci sono forme cosiddette invertite, in cui tendono a manifestarsi soprattutto nelle ascelle, nella femmina sotto il seno, a livello inquinale, meno visibili. Può provocare anche prurito? Assolutamente, anzi è questo il fastidio principale, maggiore, oltre che il fatto estetico, è il prurito. Tenendo poi presente che ogni volta che il soggetto si dà una piccolissima grattatina, una strofinata, ma non da far uscire sangue, una semplice grattatina, ecco la che chiamiamo così, questa semplice grattatina con le unghie, diciamo, è uno stimolo ulteriore all'aumento della diffusione in quella zona. Ogni volta. Per cui è facile che chi è affetto da questa patologia, insomma, si senta una sorta di appestato, no? Sì, è per questo che si chiude in se stesso, si chiude in se stesso, anche pieno di rabbia, di agitazione, di insoddisfazione della propria vita, e insoddisfazione anche per quanto riguarda le terapie. Perché queste terapie, parliamo di terapie farmacologiche, che hanno una certa attività, ma dal punto di vista momentanio, nel breve periodo, poi tempo, alcune settimane, o un mese, o due, o al massimo due mesi, si ricomincia ancora a punto e a capo. E a lungo andare, anno dopo anno, dopo anno, le conseguenze sono quali sono, che il paziente si rende conto, è convinto che le medicine, la medicina, con lui non può fare nulla. E allora comincia, per modo di dire, se gli va bene, ad affidarsi ad altre forme. Altrimenti si chiude in se stesso e non si affida più nulla. Non si cura più. E c'è circa un 20% di pazienti che non... Ha deciso di non curarsi più. Nulla, sì. Ecco, vi sono anche delle cause poi diverse, o delle conseguenze diverse, per esempio sulla respirazione, su... Sul respiro niente di particolare. Sono soprattutto a livello cardiocircolatorio, a livello artro-reumatico, una forma tipica è la cosiddetta artrite psoriasica. Può provocare anche infezioni? Non particolarmente. Non particolarmente. Non particolarmente. Conseguenze sono a vari livelli, a livello soprattutto di un dismetabolismo, e quindi anche un diabete, e via. Teniamo presente che, scusi, tornando a Monte, al discorso del tubo intestinale, una iperpermeabilità intestinale è presente non soltanto nella psoriasi, ma in diverse altre patologie anche. Voi, artitraumatoide, vitiligo, diabete, lupus eritematoso, sono diverse le patologie che presentano questa caratteristica. Ma l'assottigliamento dell'intestino da cosa è provocato? È una questione solo alimentare? Probabilmente c'è il fattore genetico qua. E le mutazioni genetiche anche hanno... DTR possono arrivare, solo che però fin quando non abbiamo evidenziato i fattori genetici specifici, in questo ambito non possiamo arrivare a delle conclusioni certe. Certo. Dottore, l'ho detto all'inizio, lei si è specializzato in questo campo. Innanzitutto le chiedo come mai. Allora, è stato circa 15 anni fa, circa 12-15 anni fa, avevo cominciato a curare pazienti nell'ambito dell'idrologia medica, della medicina termale, pazienti psoriasici. Vedevo i miglioramenti, sì, però in modo non sufficiente. Allora ho cominciato a introdurre un discorso di dieta e il miglioramento era maggiore. Poi un discorso di trattamenti ansioditici, antidepressivi, non farmacologici, e il risultato era maggiore ancora. A quel punto ho cominciato a impostare uno schema. Allora, io ho dato nome NABERG dall'iniziale di tutti i fattori di questa terapia, natural, cioè termale, biologica, nel senso di medicina biologica o medicina complementare, soprattutto in ambito di omotopsicologia e fitoterapia, e come ENERGY, quindi nel senso soprattutto di utilizzo della risonanza magnetica in terapia e della fototerapia ospedaliera. R, nel senso di reabilitation, nel senso di riequilibrio del sistema neurovegetativo, in modo particolare col training autogeno nazionale italiano. E G, gastrointestinal, nel senso di alimentazione corretta. Se volete guardare in internet, vedete, potete esaminare questo ambito, anche eventualmente nel mio sito, non ci sono problemi. Che sia chiaro che questo metodo può essere applicato da qualunque medico che voglia approfondire questo aspetto, da chiunque. Non esiste nessun brevetto, niente. L'importante è che questo medico, chiunque sia, abbia un'adeguata preparazione in ambito di ideologia medica, in ambito di tecniche psicosomatiche d'urgenza, soprattutto il training autogeno, e in ambito di medicina complementare. Ecco, dottore, ma quindi lei ci sta dicendo che è possibile riportare all'equilibrio un individuo affitto da questa patologia, quindi curare o far regredire la malattia? No, no, allora, il soggetto che applica questo metodo arriva alla guarigione, alla guarigione definitiva, a eliminare tutte le chiazze, non vuol dire essere guariti, per magari tre mesi, non vuol dire essere guariti. Io parlo di guarigione. Bisogna andare all'origine della patologia d'accordo. Quindi a livello pratico che cosa si può fare? A livello pratico come si cura una persona? Allora, con quello che ho detto... Una volta diagnosticato il problema? Diagnosticato e approfondito per conoscere le cause, ma anche la persona in modo profondo, nella sua reattività, nella sua familiarità, nel suo ambito lavorativo. Certo, casualità, certo. Cioè, teniamo presente che, in ambito lavorativo, qualunque persona affetta da psoriasi, media, di media intensità, ha una perdita di circa un mese all'anno di attività lavorativa, per le cure, o per il semplice fatto della sofferenza. Del disturbo. Perde un mese di lavoro ogni anno della sua vita. Allora, entrare in questo ambito di cura. Preferisco chiamarlo cura e non terapia. Perché dal mio punto di vista, secondo me, curare vuol dire solo risolvere un problema, risolverlo per sempre. Non significa soltanto eliminare i sintomi. La medicina sintomatica è una cosa alla sua importanza, che sia chiaro, eh? Certo. Assolutamente. Però non risolverlo. Bisogna andare a fondo e non bisogna essere medici per risolverlo. Cioè, inquadrare tutta la persona nelle sue varie problematiche, chimico-fisiche e su quella base si imposta la terapia, in quel metodo di cui parlo, del metodo NABERG, nel modo assolutamente migliore. Sì, intendevo dire che per curare non basta eliminare i sintomi. Ecco, perfetto. Dottore, ha sperimentato queste tecniche? Sono circa da 12 anni. E funzionano. La funzionalità è assolutamente costante in tutti i soggetti che la applicano al 100%. Ecco, questi risultati sono giunti dopo i suoi studi in ambito idrologico. Sì, come ho detto all'inizio, avevo cominciato con la medicina termale, così vedendo i miglioramenti. Sono abbinati anche a terapie farmacologiche, a cure farmacologiche oppure no? No. No. No, assolutamente. Ovvio che il soggetto cardio scompensato deve continuare con la sua terapia. È naturale. Ma per chi ancora non ha quel genere di sintomi e quindi in una fase ancora, diciamo... Chi non sta usando farmaci in modo continuativo per patologie croniche benevidenti, assolutamente chiunque può intraprendere questo percorso. Che avrà inizio come? Allora, la prima visita, in media, dal mio punto di vista, dura più di un'ora. perché non serve domandare a una persona, ad esempio, quante volte che mi succede, allora dal punto di vista mentale, tranquilla, lei, nessun problema. Ma sì, sì, nessun problema, dottore, tutto a posto, tutto ok, va bene, va bene, ok. Bisogna conoscere la persona. Poi andiamo avanti nel discorso, nella chiacchierata, e si va a fondo a livello di famiglia, e quante volte che entriamo nell'ambito famiglia, scusi dottore, ha dei fazzettini di carta, grazie. E allora la visita comincia. Perché a quel punto il sintomo è... Perché fino a quel momento siamo stati in superficie, punto e basta. Ed è bisogno di cominciare dalla fondo. Questo è solo un banale esempio. Certo. Però naturalmente le domande più comuni saranno che tipo di psoriasia ho, quali sono i rischi del trattamento. Vi sono rischi nel trattamento? Assolutamente. Assolutamente. Nessun rischio. Quale soluzione per il prurito? Però in realtà il paziente non sa che prima ancora di curare questo sintomo deve prima ritrovarne la causa e quindi aprirsi... Cioè la causa nel senso di andare a fondo in modo che gli interventi terapeutici con il metodo, chiamiamolo così, metodo e basta, siano i più precisi possibile. Per questo motivo. Perché non esiste la causa. Certo. Almeno fino a quando non avremo evidenziato dal punto di vista genetico, in modo chiaro e intangibile, la problematica. Dopo la prima visita? Dopo la prima visita di solito faccio, da parte mia, controlli dopo tre mesi, poi dopo altri sei mesi e poi dopo un anno. Ma come si cura? Si cura da solo il paziente? Tre mesi dalla prima alla seconda, sei mesi dalla seconda alla terza e un anno dalla terza alla quattro. Ecco. E quindi il paziente si curerà da solo? Come procederà? Assolutamente. Poi tutti sanno che posso chiamarmi al telefono, il suo problema, parliamo, chiacchiamo. Si sottoporrà ad una serie di pratiche per guarire? Come? C'è la cura. Cioè la cura consiste in la dieta specifica particolare, in cui si tratta di una eliminazione di tutta una serie di cibi. Per cui non stiamo parlando di dieta dimagrante o dieta contro antidiabetica o cose del genere. Una cosa importante può essere anche l'aggiunta, il chiarimento dal punto di vista di eventuali intolleranze alimentari. da aggiungere, cioè i divieti, da aggiungere a tutta la lista che io gli do di cibi vitati. Tornando a Monte un po', che dicevo prima, i pazienti di fronte a questa lista pensano, ma io qua muoio di fame, non mangio più niente. Per esempio, cosa non può assolutamente mangiare? Ad esempio, dei cosiddetti primi, eliminare soprattutto i cibi, cioè tipo lasagne con ragù interno. Quindi tutti i cibi elaborati. Elaborati. Spaghetti o maccheroni, con i condimenti concessi, ne può usare anche un chilo al giorno, senza problemi. che può diventare 130 kg di peso, non è quello il problema. Le carni rosse vanno eliminate. Mentre può continuare con le cosiddette carni bianche. Gli alcolici sono vietati, però ad esempio può bersi un calice di vino, meglio se vino rosso, mentre sta mangiando il piatto di carne, carni bianche, ovvio. In quel caso, ovvio non tutti i giorni. Vanno eliminati tutti i dolciumi, dolci, torte, anche le caramelle, tutto cioccolato, eccetera. Vanno eliminati. C'è tutta una serie di aromi, condimenti, eccetera, che non sono da considerare, da eliminare. E uno dice, sì ma, cosa mi resta? Puoi benissimo mangiare, organizzarti, infatti io sempre dico, bene, questa è la prima visita, ti do la lista dei cibi da eliminare. Bene, vai a casa, parla con tua moglie o con tuo marito o in famiglia o con qualche conoscente, eccetera. Puoi fare tutta una serie di piatti senza problemi, senza presenza di questi cibi vietati, di queste sostanze vietate. Velenose per chi ha questo problema. Per te è velenose. Un'altra cosa, faccio esempio, il caffè, il caffè può berlo, però non può bere, allora il caffè può berlo, lo zucchero può usarlo, ma non può usare caffè ad un zucchero. Oppure il caffè con il latte, insieme. Non va bene. Assolutamente. Il latte vaccino va eliminato, può utilizzare altri tipi di latte. Per cui, oltre a questo... La persona dopo sei mesi, dopo otto mesi, eliminando tutto, con tutto quanto, mettendo in tutto il tutto, si ritrova a posto. Una volta che ha risolto completamente, completamente al 100% l'aspetto cutaneo, deve lasciare passare altri 4, 5, 6 mesi, altri 6 mesi, continuando sempre con la dieta, dopodiché, dico sempre a tutti, dopodiché, se vuole, può ogni tanto ricominciare ad assaggiare qualcuno dei cibi che erano stati vietati. Non ho ancora conosciuto un paziente in questi 12 anni che mi avesse detto e però ho ricominciato a mangiare qualcosa che era vietato. No, perché si sono tutti perfettamente abituati al nuovo regime alimentare. Dottore, altri suggerimenti per chi è affetto da questa patologia? Per esempio, oltre alla dieta, cos'altro prescrive? Cioè, c'è il training autogeno, il training autogeno va fatto quasi costantemente a quasi tutti. In che modo? Anche il soggetto allettato può fare il training autogeno. Perché, dottore? Per il riequilibrio neurovigitativo. Non tutti sono in grado, però bisogna conoscere la tecnica. Sì, ripeto quello che ho detto prima, il medico deve essere esperto di ciascuno di questi settori. Training autogeno, di regola, si fa una volta alla settimana per 10 settimane, poi basta. Poi il soggetto, dopo 10 settimane, il soggetto è addestrato e si autogestisce da sé. Talvolta può essere utile l'aggancio terapeutico anche con un osteopata o un chiropratico. Soprattutto se ci sono alcune particolari alterazioni a livello vertebrale, soprattutto cervicale, particolarmente dorsale e minima parte lombare. Questo ovviamente è evidenziato da dati, non solo dai raggi, ma da otacco o risonanza magnetica. Allora può essere utile un intervento anche di questo collaboratore. Quali sono i tempi di guarigione? Oscilliamo a seconda del tipo dell'estensione e della gravità, quindi. Oscilliamo tra gli otto mesi e i quindici mesi. Per la guarigione, guarigione punto. Quindi non miglioramento, non semplice scomparsa delle chiazze. Parlo di guarigione. La guarigione che abbiamo detto va oltre quelli che sono gli effetti visivi. Dottore, queste cure sono valide a tutte le età, sia per i bambini che per le donne, che per gli uomini? A tutte le età, assolutamente. I problemi sono soprattutto come età, come ambito di età, diciamo tra i 15 e i 40-50 anni. È lì soprattutto l'ambito principale. In cui si manifesta? No, in cui il paziente chiede apertamente o tiene dentro, non chiede, ma vorrebbe chiedere l'aiuto. Ecco, allora dottore le domande, ma dove si può trovare un sostegno emotivo? Perché mi pare di capire che questo sia un fattore determinante per potersi curare. Trovare un medico che sappia quei fattori che vi ho detto. In modo particolare, cioè non è tanto importante il discorso dieta, perché dieta è uguale praticamente per tutti, in aggiunta ci può essere l'intoleranza alimentare, ma queste sono uguali per tutti, chiunque le può applicare, senza bisogno del medico. Il discorso particolare, così come anche la risonanza magnetica, è la fototerapia. Si appoggia al suo medico di base e risolve il problema. Ma il problema del medico sono il training autogeno, la medicina complementare e soprattutto quello, training autogeno e medicina complementare. La casistica che cosa le dice? Quali sono le percentuali di guarigione? Allora, le percentuali di guarigione, cioè la guarigione, non esiste nel soggetto che applica in parte, solo in parte, il metodo. Per vari motivi, non ha voglia di andare verso a sinistra. Se la pratica verrà seguita correttamente. In questo caso si tratta solo di miglioramento. Cioè intendo dire, se fa soltanto la dieta, un certo miglioramento delle chiazze c'è. Magari il soggetto, il paziente stesso non se ne rende conto, però chiunque lo guarda, lo osserva, capisce che c'è un po' di miglioramento. Ma solo miglioramento e basta, non si parla di guarigione. E il rischio di ricaduta? Non ne ho ancora evidenziati. Anche perché il soggetto, per quanto riguarda il training, resta addestrato e quindi si fa il suo esercizio di 30-40 secondi, non 30-40 minuti, 30-40 secondi una volta al giorno e a posto. Per quanto riguarda la dieta, sa perfettamente come comportarsi e come accendevo prima, si abitano a questo nuovo tipo di dieta, che oltretutto è anche molto meno, dal punto di vista economico, è favorevole al paziente. Impattante. Dal punto di vista della medicina complementare non ne ha più bisogno, assolutamente. Il soggetto guarito basta, non ha più bisogno di nulla e di nessuno e riapre la propria vita al mondo esterno. La medicina tradizionale, la scienza, riconosce questo trattamento? No, perché non è ancora, non è una cosa ufficiale, io non ho richiesto nessun brevetto né niente. Certo. Ecco, adesso stiamo vedendo, sto vedendo la struttura pubblica, ecco. Di poterla applicare. Di applicarlo. Certo. Però dopo ci vogliono anni, 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 forse fra 5-10 anni, forse se tutto va bene verrà reso pubblico. Nel frattempo però chi è affetto da questo potrà provare effetti indesiderati, non ve ne sono, collaterali e potrebbe trovare la soluzione definitiva. Anche le donne in gravidanza possono essere curate? Anche donne in gravidanza? Assolutamente sì. Ovviamente nella terapia va tenuto presente quel fattore della gravidanza. Per cui ci sono sostanze che posso prescrivere a chi è in gravidanza e sostanze che invece non posso prescrivere. Su questi studi idrologici sono stati pubblicati anche diversi articoli sui studi. Sì, ma anche libri, testi ufficiali, eccetera. Ha pubblicato qualcosa anche lei? Ci sono stati termali che hanno sviluppato la loro conoscenza grazie soprattutto a questa terapia, a questa malattia. teniamo presente che ad esempio acque termali con una particolare utilità medica, e parlo di medica, nel settore psoriasi, qui vicino a noi ne abbiamo. Posso benissimo fare i nomi, non in classifica, Bormio, Valmasino e quelle che erano Madesimo. Quindi queste acque hanno poteri? Hanno un potere particolare, si è utilizzate in un modo particolare, però da sole non risolvono il problema, da sole si comportano esattamente come la pomata di cortisone antistaminico. Sono dei pagliativi? Momentari, nel tempo breve o tutto al più medio. Benissimo, ringrazio il dottor Barnia per essere stato con noi. Grazie a lei, estrema visione di Livigno e ai miei ricordi di questo luogo fantastico. Grazie anche a voi da casa che ci avete seguito, a venerdì prossimo, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.